Il Ministero della Giustizia ha dato l'ok definitivo al finanziamento da 926.000 euro per procedere ai lavori di manutenzione messi in sicurezza del Tribunale di Teramo. Interventi che interesseranno il rifacimento delle facciate esterne, delle scale, dei parapetti e delle strutture accessorie. Particolare attenzione sarà data all'adeguamento delle attuali norme di sicurezza dell'edificio, che ricordiamo ideato negli anni 60 dall'architetto Gianfranco Canigia e realizzato nel decennio successivo in un contesto molto diverso sotto il profilo dell'accessibilità e della fruibilità. È un intervento importante di modernamento, di qualificazione, sistemazione e manutenzione, risorse significative perché parliamo di un milione di euro, segno ancora una volta di una collaborazione molto stretta ovviamente tra il nostro Tribunale, il nostro Palazzo di Giustizia e la città di Teramo, Teramo città capoluogo che quindi collabora con il Tribunale per renderlo sempre di più un punto di riferimento, un presidio istituzionale della nostra città migliorando ovviamente la qualità della struttura. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera al progetto esecutivo da parte del Comune di Teramo, proprietario dell'immobile, e ora nelle prossime settimane si dovrà procedere con l'indizione di una gara d'appalto e con ogni probabilità in primavera potrebbero partire i lavori. C'è un progettista che è stato incaricato, il progetto, lo studio case con l'architetto Serena Sorgi, quindi siamo già in una fase avanzata, il Comune come soggetto prioritario oltre ad aver autorizzato l'intervento coordina e sovrintende a tutte le varie operazioni, quindi i tempi ormai sono maturi nel senso che la procedura è in una fase avanzata e quindi con l'attività dell'amministrazione comunale insieme all'assessore delegato al patrimonio Valdo di Bonaventura perché non dimentichiamo che un intervento importante di riqualificazione del patrimonio della città di Teramo e del Comune di Teramo siamo pronti per far partire dei lavori che comunque nei prossimi mesi verranno alla luce.